Ben trovato, ti presento l'adorazione dei Maggi di Masaccio. La Pradella faceva parte di un politico destinato alla chiesa del Carmine di Pisa, in seguito smembrato e disperso in vari musei del mondo. Grazie al committente di quest'opera che annotò i pagamenti, le indicazioni date dal pittore, è una delle opere di Masaccio che possediamo, che è meglio documentata proprio grazie a questo lavoro certosino da parte del committente. Come di consueto la scena dell'adorazione dei Maggi è rappresentata di profilo, con una tecnica molto raffinata e soprattutto miniaturistica. A partire da sinistra uno sfondo nudo ed essenziale, attraverso uno sfondo nudo ed essenziale, si vede una capanna prospetticamente costruita e coperta di paglia, di cui possiamo vedere con questa rappresentazione, come dicevamo, molto miniaturistica, tutti i fili di ogni singolo appunto della paglia. All'interno adagiato per terra c'è un bue e in piedi un asinello rappresentati di tergo, cioè di spalle. In basso invece si vede una sella che è servita all'asinello per portare la Sacra Famiglia da Nazareth fino a Betlemme, come ci racconta il Vangelo. Anche Giuseppe, che era della casa e della famiglia di Davide, dalla città di Nazareth e dalla Galilea salì in Giudea la città di Davide chiamata Betlemme, per farsi registrare insieme con Maria, sua sposa. Masaccio rappresenta Maria seduta su un trono dorato, che ricorda un faldistorio con teste e zampe leonine. Tiene in braccio il piccolo Gesù che benedice il primo dei Maggi che gli sta baciando il piedino. Il primo dei re si è inginocchiato e ha deposto la sua corona per terra, segno che riconosce in Gesù il Messia, il re promesso. Il dono che ha portato il primo dei re Maggi è tenuto da San Giuseppe qui al lato, rappresentato anziano, come era tipico dell'iconografia del tempo. Primo per mettere in risalto la paternità del bambino, cioè Dio è il padre del bambino e il padre che sta nei cieli, e soprattutto per sottolineare la verginità di Maria. Ogni membro della Sacra Famiglia è rappresentato con l'aureola dorata, che per la prima volta nella storia dell'arte è rappresentata in prospettiva. Il secondo dei Maggi invece è in ginocchio, rappresentato in atteggiamento di orante, cioè di preghiera, mentre un servitore gli tiene la corona in mano. Infine il terzo dei Maggi ha lo sguardo fisso sul bambino e quasi sfugge al gesto del servo che gli sta togliendo la corona dalla testa. I colori delle vesti di quest'ultimo Maggio, vado a dire il blu e il rosso, richiamano quelle che sono i colori di Maria e di Gesù. La sua figura eretta taglia la scena perfettamente in due e delimita uno spazio insieme con Maria, delimita uno spazio che potremmo dire lo spazio mistico, lo spazio della fede, della preghiera. È dentro a questo spazio che si coglie lo sguardo di Maria così pensoso, così interrogativo, così intensamente radicato nella sua anima piena di grazia. Maria non guarda il figlio, anzi neppure guarda a uno degli omaggianti. Il suo sguardo però si perde nel vuoto, si perde contro quello spazio mistico così denso di presaggi, come dicevamo prima. Maria mostra Gesù perché sia adorato con un gesto pieno di timore, di consapevolezza. L'offerta che questo bambino farà di sé quando diventerà adulto sembra quasi già pesare sulle spalle della sua madre, che sono spalle ricurbe, spalle rigonfie, sembra che il dolore sia già all'uso dallo sguardo, ecco come dicevamo un po' perso nel vuoto da parte della madre. La stella dorata che vediamo rappresentata qui sul mantello allude alla sua verginità. I magi sono rappresentati in tre diverse età, era un espediente simbolico utilizzato anche in altre adorazioni dei magi, per sottolineare come la lode di Dio, l'adorazione di Dio deve caratterizzare non soltanto una fase della vita ma tutte le fasi della vita, l'età giovane, l'età adulta e l'età anziana. Tra le teste dei cavalli si intravede un personaggio che guarda verso lo spettatore, probabilmente è un autoritratto di Masaccio o con molta più probabilità si tratta del ritratto del fratello di Masaccio. Masaccio è stato il primo ad utilizzare l'ombra, a dipingere l'ombra nelle sue opere, questo per dare l'idea della consistenza dell'essere umano, siamo nell'umanesimo quando l'uomo è al centro, l'ombra dice poi soprattutto che il verbo si è fatto carne ed è venuta ad abitare in mezzo a noi, quindi ci dice la realtà, la verità dell'incarnazione di Dio. Masaccio ha scelto di vestire i suoi personaggi con gli abiti tipici del suo tempo, questo per attualizzare il racconto evangelico e così coinvolgere gli osservatori nella scena rappresentata. Alcune figure sono visibilmente distratte e sembrano quasi incuranti di ciò che si sta svolgendo sotto loro occhi, come questo personaggio che sta facendo pascolare uno dei cavalli. Al centro invece sono rappresentati due borghesi in cappe grigie con gambe ricoperte da calzamaglie e cappelli alla moda. Appaiono indecisi, forse si potrebbe trattare del committente e di un suo nipote, attratti dall'evento ma nello stesso tempo anche bloccati dalla loro razionalità. La loro presenza è molto indicativa all'esordio del rinascimento, infatti accanto ai committenti costituzionali, quelli tradizionali, papi, imperatori, principi aristocratici. Adesso ecco che si affacciano i borghesi, questa nuova classe sociale che stanno diventando sempre più protagonisti non solo della società ma anche del mondo dell'arte. Grazie per la tua attenzione.